allora ragazzi siccome domenica è la festa della mamma abbiamo pensato di mettere una dedica a tutte le mamme in ascolto e abbiamo pensato per non mettere una poesia che possono mettere tutti avrò bisogno di avere una cosa che ce l'abbiamo solo noi adesso vai a trovare tu uno che scrive poesie sulla mamma poi e niente alla fine cerchiamo vai a trovare un grande attore che la lega allora alla fine Maurizio ha chiamato Stefano Accorsi e ha detto Stefano mi leggi la poesia che ho scritto nel mio libro che va tanto che va tantissimo il libro che si chiama tu sei come me tu sei come me io sono come te siamo quel che siamo quello che siamo quello che siamo la poesia sulla mamma come si chiama a mia madre a mia ma a mia mage letta ragazzi da Stefano Accorsi sentiamo dove sei senza di te non ho vita non ho centro né meta non hanno radici gli alberi né direzione le rondini mi sono perso ti prego chiamami che io possa sentire la tua voce riconoscere la tua figura nel centro dell'uragano ora abbracciami non ricordo il tuo abbraccio ma se avrai il coraggio di farlo mi dissolverò in te avremo per un attimo ancora due cuori in un solo corpo ora sono al sicuro qui con te senza fare niente solo parlare starti vicino sentire che l'estate è in arrivo che un giorno dovrò andarmene ancora cercandoti nel gesto di ogni donna è in arrivo non l'omso 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 sia Grazie a tutti